Non mi frega niente. E padre Graziano all'ingresso del Tribunale di Arezzo a rispondere lapidari e giornalisti che gli avevano chiesto come si sentiva prima dell'udienza che ha visto come protagonisti le parti civili, i familiari di Guerina Piscaglia. Stiamo parlando di una persona che viene in udienza sapendo che il pubblico ministero ha chiesto 27 anni di reclusione per quello che gli viene imputato, quindi arriva nervoso sempre di più quando giunge, man mano che si avvicina il giorno della sentenza. Si è tornato in aula per il processo al frate congolese dopo che nell'ultima udienza il PM Marco Dioni aveva chiesto 27 anni di reclusione per omicidio ed occultamento di cadavere. È stato il turno delle ringhe delle parti civili, una richiesta forte ed unanime, quella della condanna dell'imputato. A seguire sono stati richiesti anche risarcimento economici. L'avvocato Nicoladetti, legale di Mirko e Lorenzo Alessandrini, ha mostrato in aula la foto di Lorenzo, il figlio della casalinga scomparsa. Ho voluto che simbolicamente Lorenzo fosse in udienza e che la Corte di Assise potesse vedere chi è Lorenzo e quindi quando entreranno in Camera di Consio mi auguro che si ricorderanno di questa foto. Se c'è una cosa certa è che dal 1 maggio 2014 Mirko non ha più una moglie e Lorenzo non ha più una mamma e questo purtroppo sarà per tutta la vita. Io mi auguro che questa Corte di Cassazione condanni alla pena che è stata richiesta dal Pubblico Ministero, quindi almeno 27 anni. Quanto l'ho già fatto vedere sono rimasto appozionato, dai che non ho neanche mai visto mio figlio. È giusto che l'abbino visto. Seguo sempre anche le trasmissioni in diretta, ormai purtroppo sarà segnato anche lui. Fermo e decise anche le parole di Nicodemo Gentili, avvocato che rappresenta l'Associazione Penelope. Il legale ha definito padre Graziano boccaccesco ed affetto da bugiardite. Sicuramente è una persona che ha mentito, ha mentito in più occasioni su molte circostanze e questo dovrà avere un peso poi nella decisione finale. È un gran bugiardo padre Graziano, è un prete a statuto speciale, l'ho definito, perché a seconda della convenienza mette avanti il suo ruolo ecclesiastico, quando però doveva frequentare certi ambienti, quando si doveva lasciare andare, invece il suo ruolo ecclesiastico se ne dimenticava con facilità.